Una pallina intelligente per rilevare lo stato di salute delle condotte e registrare eventuali perdite. Si chiama Smart Ball ed è l'innovativa tecnologia utilizzata in questi giorni da Binge SP lungo il principale acquedotto della provincia di Belluno, quello della Val Clusa, che dalla Valle a Gordina si snoda per oltre 130 km di rete idrica interrata fino a Valdobbiadene, erogando circa 400 litri al secondo e garantendo l'approvisionamento idrico a 50.000 abitanti distribuiti in otto comuni in destra e sinistra piave. Quadiuvati da Xylem Water Solution, multinazionale proprietaria del brevetto e con sede anche in Italia, i tecnici di Binge SP hanno utilizzato questa sofisticata strumentazione lungo un tratto di circa 40 km di rete idrica principale, compreso tra la Valle a Gordina e l'Entiai. Tramite una pallina, una Smart Ball, fatta di sensori praticamente grandi, circa 11 cm di diametro con un rivestimento in gomma piuma, si analizza lo stato della condotta, la pallina dei sensori che registra i rumori del flusso dell'acqua, viene immessa nella condotta senza interrompere il flusso dell'acqua, ogni chilometro circa viene immenturato attraverso dei sensori che sono posizionati sul tubo e con un tratto di 10, 12, 15 km viene immessa, registra tutti i rumori che sente lungo il percorso e attraverso l'analisi poi dei dati si dirà le anomalie dove ci sono delle perdite. Il vantaggio grosso è quello di poter fare queste indagini senza dover fermare il flusso della condotta, quindi la condotta è un esercizio normale, la pallina viene trascinata a velocità dell'acqua e pianino diciamo che in 7-8 ore riesce a coprire 10-12 km. Nell'acquedotto della Val Clusa, spiega Fabio Gasperin, direttore generale di Binge SP, abbiamo eseguito tre distinti inserimenti in condotta, rispettivamente tra la Valle a Gordina e Vignoli di Sedico, tra Vignoli e Marcador di Mel e tra Marcador e Marziai di Lentiai. In tutta la tratta la SmartPol ha individuato diverse anomalie su queste, ora faremo le verifiche tecniche del caso per accertare se siano perdite e pianificare di conseguenza le azioni da adottare. Il lavoro rientra nel maxiprogetto da 25,6 milioni di euro che ha l'ambizioso obiettivo di ridurre fino al 35% le perdite idriche degli acquedotti bellunesi con la modellazione, la distruttualizzazione e la digitalizzazione di 1.615 km di rete idrica della provincia.